Musica Buonasera, bentrovati, edizione speciale questa di Grandangolo. Parliamo della frana del Ruinon, parliamo dei rischi di questa frana, parliamo anche dell'apprensione, quindi dell'agitazione che questa sta innescando nella popolazione. Lo facciamo questa sera con Gianfranco Saruggia, consigliere di opposizione. Buonasera, benvenuto. Grazie, buonasera a lei. E Carmelino Puntel, buonasera, benvenuto anche a lei. Grazie, buonasera. Sempre del gruppo di opposizione del comune di Valpurva, già amministratori e quindi sicuramente memorie storiche di quella che è appunto una delle frane più importanti dell'intera Lombardia. Cominciamo con il dire che da giugno, da quando la criticità di questa frana è salita, l'attenzione anche mediatica è sicuramente aumentata. Non sempre però l'informazione e la comunicazione si sono rivelate efficaci. Vedremo questa sera di capirci qualcosa in più, lascerei subito la parola a Gianfranco Saruggia per capire che cosa è accaduto in questi ultimi mesi, ma soprattutto che cosa è accaduto prima, anche quando fu sindaco dal 2007 al 2012. Bene, buonasera, grazie di questo invito che mi fa, ci fa molto piacere, in quanto come lei ha detto è da giugno che parliamo di Ruinon, o addirittura da anni che parliamo di Ruinon. Non ci siamo mai espressi, anche se siamo stati sollecitati dalla popolazione, dai giornali, ma in un periodo estivo con dei turisti non si voleva né sollevare polemiche né creare niente. La cosa che ci rammarica un po' è il non coinvolgimento da parte del sindaco Cacciotto. Però non vogliamo fare polemiche steriche, noi vogliamo aiutare se possibile con delle testimonianze, con quello che era stato fatto negli anni precedenti e capire dove vogliamo andare. Perché, come lei diceva, c'è una grossa preoccupazione e qui ora non bisogna più parlare, darle colpe, fare qui, fare là, ma agire, fare delle azioni. Allora, se lei permette, io devo usare i fogli, in quanto mi sono preso degli appunti e quindi non... Prego. Allora, la frana del Ruinon sappiamo benissimo che è da anni. Io mi ricordo da bambino, genitori, nonni, la chiamavano la roina, poi dopo tramuntato in Ruinon, ed è sempre stato un punto un po' pericoloso. Dal 1996, Regione Lombardia l'ha presa in carico come monitoraggio e poi sviluppato con ARPA. Le varie amministrazioni locali, la comunità montana, provincia e Regione Lombardia erano al corrente della situazione e varie iniziative sono state intraprese per risolvere il problema. Ma ad oggi nulla di fatto. Dispiace che in questo momento sembra che chi c'era prima in questi 30 anni non ha fatto niente, non si è mosso. E adesso abbiamo la spada di Damoc, come si dice, sulla testa e quindi come possiamo fare? Io voglio solo rimarcare che nella gestione 2007 e 2012, la gestione della mia amministrazione, il secondo giorno che era sindaco sono stato chiamato in prefettura per decidere sull'esercitazione della frana Ruinon e sull'anniversario dei vent'anni della Valpola. L'allora prefetto Marolla mi fece una domanda, c'erano tutti gli enti che dovevano partecipare e mi disse al contrario la sua predecessora, la sindaca Tradati, non sono d'accordo in quanto in quel periodo si crea del disagio, delle preoccupazioni. Allora io in quel momento ho detto, io invece lo accolgo, facciamo questa esercitazione, però mi deve dare una mano per risolvere il problema. Questa è stata la mia risposta. Il prefetto, devo dire, che ha preso la cosa a cuore e con Bertolaso mi hanno aiutato a fare un protocollo di intesa. Abbiamo costituito subito la protezione civile comunale, che non c'era, anche qui contro tutti, però l'abbiamo fatta. Abbiamo preparato il piano di emergenza del comune. Il 28 febbraio 2008 viene sottoscritto il protocollo di intesa con i vari attori. Regione Lombardia, Dipartimento di protezione civile, Prefettura di Sondrio, Provincia di Sondrio, Parco Nazionale dello Stelvio, Comunità Montano-Alta Valtellina, Comune di Bormio e Comune di Val di Sotto, naturalmente il Comune di Valfurva. La Regione Lombardia si era resa disponibile a essere soggetto attuatore della progettazione definitiva dell'intervento, in collaborazione con la provincia di Sondrio ad attivare tutti i possibili canali di finanziamento, a svolgere l'attività di coordinamento locale. Il Dipartimento di protezione civile si è reso disponibile ad affiancare gli enti locali nell'aggiornamento del piano di emergenza e ad attivare tutti i possibili canali di finanziamento a livello nazionale ed europea per il riperimento dei fondi per la realizzazione delle opere. La Prefettura di Sondrio si è resa disponibile a coordinare il piano di emergenza, secondo le modalità descritte del piano stesso. La provincia di Sondrio è disponibile a provvedere all'aggiornamento del piano di emergenza individuando le modalità tecniche, le procedure e il modello operativo per la gestione del piano e a collaborare con Regione Lombardia nella predisposizione del bando di gara di progettazione. Il Comune provvede alla predisposizione del piano di emergenza comunale e lo trasmette a tutta la popolazione su un cd. La provincia rivede tutto il piano Ruinon che interessa Val Furba, Bormio e Val di Sotto. Nel progetto una delle prime operazioni era togliere le acque del corpo frana e in un secondo tempo fare il bypass. La nostra amministrazione, eravamo quasi agli sgoccioli nel 2012, visto che i tempi si prolungavano, ha presentato un progetto alla provincia per togliere le acque dal fronte frana e realizzare una centralina idroelettrica di proprietà comunale. A questo punto, se fosse stato accolto il nostro progetto dalla provincia, lo stesso sarebbe stato proposto ai bandi dei comuni confinanti delle province di Trento e Bolzano. E abbiamo fatto anche un progetto di un elisoccorso per Santa Caterina. Quindi noi in quegli cinque anni ci eravamo mossi e avevamo messo in atto alcune funzioni con tutti gli enti che in quel tavolo, che facevamo spesso degli incontri sia su Milano che in provincia di Sonzio, ma stavano andando avanti. E avevano messo a disposizione la regione Lombardia per fare questo progetto ben due milioni di euro. Questo è stato fatto in quella gestione. Dopodiché noi abbiamo finito il mandato. Bene, allora qui la fermo perché vorrei commentare con punte alcuni passaggi. Cominciamo con il dire che dal 96, ad opera di regione Lombardia, attraverso ARPA, è stato attivato un monitoraggio. Però in realtà la frana del Ruinone era già stata oggetto di studi approfonditi e era già stata, per così dire, ampiamente studiata da alcuni geologi. Se non ricordo male, già nell'84 il dottor Azzola aveva stilato un piano che in qualche modo delineava la pericolosità di questa montagna. Uno studio che evidenziava che il movimento franoso interessava anche quell'area che oggi è coperta dal bosco, se non sbaglio. Lei che è stato amministratore, è stato amministratore dal 2002 al 2007 come assessore ai lavori pubblici, ma soprattutto che da 35 anni conosce la Valforva. Che cosa può rispondere in proposito? È vero o non è vero? Ma diciamo che quello che aveva detto il dottor Azzola sicuramente era vero. Lui aveva fatto un scenario che con i passaggi degli anni piano piano ha preso piede. Sicuramente in questi anni sono stati anche sottovalutati alcuni magari problemi che andavano affrontati subito. Però bisogna dire che da quello studio del dottor Azzola poi piano piano si è cominciato a parlare di cosa succede. Dovesse succedere uno smutamento, una piccola frana, una caduta di sassi, come potremmo intervenire, cosa si potrebbe fare. E da qui è nato anche il primo studio e il primo progetto di realizzazione della strada di emergenza. Questo progetto era stato portato avanti dall'amministrazione precedente alla nostra, preseduta da Silvio Andreola. E sicuramente appena siamo entrati noi in amministrazione il progetto era pronto, era finanziato. E la prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo messi, abbiamo fatto e realizzato la strada di emergenza. Anche qui con tante critiche, con tanti guai, perché sapete benissimo, era tutta parte di strada all'interno del parco nazionale dello Stelvio. C'erano piante da tagliare, c'erano da fare dei lavori abbastanza consistenti. Però il progetto era valido, noi ci credavamo, ci abbiamo creduto e abbiamo realizzato questa strada di emergenza. Sta parlando quindi dell'amministrazione Antonioli. Sì, l'amministrazione di Dili Antonioli, di cui appunto, come ha detto lei, io ero assessore di lavoro di Pugge del territorio e dell'ambiente. In più, noi, faccio un passo indietro, già alla vigilia dei mondiali famosi 2005, era l'autunno 2004, sì, l'autunno 2004, avevamo invitato un professore, un ingegnere, appunto per farci dire qualcosa su questo benedetto corpo franoso. E l'abbiamo portato a visitare e a visionare questa frana. E mi ricordo che questo professore, questo ingegnere, era rimasto abbastanza positivo dicendo, ma dice, guardate che non è poi così grave come me la state illustrando voi. Qui bisogna mettere mano subito, salire, far scendere tutti i sassi, fare un'opera di disgaggio. Una volta fatto questo, mettere delle reti di protezione, dopodiché si procede al regimazione delle acque, tirare via, perché quella zona lì che io la conosco come le mie tasche, è piena di sorgenti d'acque, che parte da Asce di Sopra, Prado-Rish, Confinale Alto, Confinale Basso, è tutta una zona di sorgenti. L'errore madornale è stato che queste operazioni non sono state fatte. Come diceva prima Gianfranco, noi abbiamo realizzato questa strada e sicuramente se non era stato fatto questo lavoro oggi ci trovavamo veramente in braghe di tela perché non c'era neanche una strada di emergenza. Dopodiché noi non siamo più stati rialetti, è arrivato l'amministrazione Sarugia, però hanno proseguito con vari progetti, più o meno quelli che si erano delineati con la nostra collaborazione. Pertanto a me mi dà fastidio sentire questo sindaco attuale criticare, venire a dire che gli ultimi 30 anni le amministrazioni non hanno fatto niente, perché deve star zitto, non deve neanche aprire bocca su questo fatto qua, perché noi abbiamo messo mano già quasi 20 anni fa e abbiamo fatto tutto il possibile per realizzare qualcosa di positivo. Lui purtroppo in questi sette anni non ha fatto niente, adesso stiamo pagando le conseguenze. Sono davvero dispiaciuta che il sindaco Cacciotto non sia presente oggi qui con noi, peraltro vorrei sottolineare che avevo invitato l'amministrazione al completo ad intervenire, quindi nelle figure del sindaco e del vice sindaco, ma purtroppo non hanno trovato il tempo di partecipare, per cui questo ad onor di cronaca era doveroso dire. Puntel, quello che è evidente è che gli scenari, sia quelli della protezione civile, che di voi amministratori possibili, ma anche della gente, non sono mai stati rassicuranti. Quindi, che la frana del ruinon, che prima il dottor Saruggia citava come roina, questo è un termine dialettale, ma che in realtà significa rovina, nome quanto mai azzeccato, è una storia di lunga data e soprattutto appunto dagli scenari sempre piuttosto negativi. Come avete già detto, l'obiettivo è stato sempre quello di togliere l'acqua, che scorrendo ha creato o allargato le spaccature, quello di creare delle protezioni, ma anche di guardare lontano, quindi ad una soluzione definitiva. Credo sia quello che oggi la gente vorrebbe, cioè delle soluzioni, diciamo, che in qualche modo facciano fronte all'emergenza, quella in cui ci troviamo in questo momento, perché è bene ricordare che Santa Caterina a Val Furva oggi non è isolata, perché può contare sul passo del Gavia, ma se non ci fosse il Gavia, oggi sarebbe isolata. E quindi questo credo che sia davvero il peggiore degli scenari e quindi delle situazioni che si potevano creare. Prego Sarugio, voleva intervenire? Sì, allora diciamo che dal 2012 sono passato all'opposizione, in minoranza. Però su questo problema grosso siamo sempre rimasti sul pezzo. Tant'è vero che nei nostri cinque anni, voi per fortuna o no, noi non abbiamo mai chiuso la strada per questi interventi. È stata chiusa il 19 o 20 settembre 2010, perché c'era stata una grande nevicata ed erano cadute le piante. Mi ricordo ancora che c'erano delle persone, degli agricoltori che avevano le mucche in Gavia e non potevano passare, però abbiamo chiuso per un pomeriggio e una notte. Negli anni successivi invece questo fenomeno è continuato a creare dei problemi e quindi chiusure, aperture con delle finestre e via dicendo. Siamo nel novembre 2014 dove facciamo un'interpellanza al sindaco Cacciotto e si chiedeva che venga rivisto il piano, cioè il piano quello d'emergenza, migliorandolo e poi che venga informata la cittadinanza nel modo corretto, cioè nel senso che lo faccia lui con delle comunicazioni giuste, che venga verificato lo stato dell'arte del progetto, quello che avevamo portato voi, fatto quello con la protocollo d'intesa con Regione Lombardia. E di fare un tavolo con la comunità montana, la provincia e la regione per fare un programma di medio-lungo termine, che il problema Ruinon veniva considerato come un progetto strategico da finanziare con i proventi dei comuni confinanti, così come indicato anche di un'interrogazione proposta allora dal sindaco di Sondalo alla comunità montana della Valtellina. Allora, noi abbiamo fatto questa interpellanza nel mese di novembre, è stata portata in consiglio l'11 marzo 2015 e il sindaco ha risposto. Piano d'emergenza lo stavano aggiornando ed era stato dato a comunità montana per fare quello intercomunale. Il coordinamento è gestito dal CCS, presieduto dal prefetto, come prevede il periodo provinciale per la Frano Lombardia. Lo studio della Frana e il progetto di intervento, che prevede due gallerie, una per il deflusso dell'acqua e l'altra per l'altra viabilità, è stato completato. I finanziamenti per effettuare gli interventi sono onerosi e data l'attuale situazione congiunturale negativa, non è facile reperirli. Il solo bypass idraulico, che era una delle cose importanti, per la somma di 34 milioni, è stato inserito, a seguito di studio di fattibilità di Regione Lombardia, tra gli interventi da finanziarsi con il Fondo di coesione, Fondi Statali e Fondi Europei. Poi in più, ci dice, gli incontri avuti con la Regione, la provincia e i comuni dell'Alta Valle per trovare una soluzione radicale al problema, si sono sempre conclusi con un nulla di fatto per gli altri costi di realizzazione del progetto. Il finanziamento promosso dal Comune di Sondalo è oggetto di discussione nell'ambito della promulgazione delle opere comprensoriali di aria, vasta, di competenza di Regione e Provinciale ai comuni confinanti. Tutto sommato aveva risposto e stava facendo qualcosa, ma sembra che il discorso grosso erano i soldi. Allora, ci si domanda, non ci sono i soldi, però c'è un progetto dove abbiamo speso due milioni di euro, quindi li abbiamo cestinati nel cestino. Non facciamo più niente? Non si può prendere in mano quel progetto e dire cominciamo almeno a portare via le acque? Non si può cominciare almeno a lavorare, portare via i sassi? Cioè, penso che, io non dico che lo doveva fare il sindaco, ma tutti quelli sottoscrittori che c'erano, ecco perché noi, l'unico interlocutore che ci poteva e doveva muoversi, era l'amministrazione, il sindaco doveva, penso che l'abbia fatto, per l'amor di Dio, penso che l'abbia fatto, ma oggi, dopo 2008, abbiamo fatto il protocollo d'intesa, 2017, penso che ci dicano che non abbiamo ancora i soldi e quindi nulla di fatto, però abbiamo un grosso problema, un grosso disagio e io penso che se si trovavano quei soldi con dei comuni confinanti, come abbiamo elargito i cosiddetti 60 milioni di euro che rivendicheremo sempre, che erano destinati dalla legge iniziale 2010, destinati Valfurva e Bormio e poi dopo, non so perché, con il piano del parco, con tutto, sono stati dati anche ai comuni di secondo grado, si poteva forse pensare in quel momento di dare una parte per queste cose, perché, come ho letto prima, i comuni interessati della frana Roinon sono anche Bormio e Valdisotto, che sono anche loro, perché il problema grosso, qualora succedesse il collasso, il scenario che abbiamo visto in quell'estate del 2007, quello più grosso, chi ha le conseguenze più grosse, i disastri, sono la bassa valle, cioè Valfurva, quelli dalla valle e quelli sotto. Ora, io dico, adesso siamo in una situazione, non è che siamo al collasso, ma abbiamo una strada chiusa, è come se fosse scesa una cosa. Per fortuna non ci sono danni, non ci sono morti, ringraziamo, però, ecco, un'altra delle cose che non abbiamo visto quest'estate e l'avevamo chiesto in consiglio comunale, dove era stato presentato e approvato l'ultimo piano di evacuazione del comune, avevo proprio suggerito al sindaco di trasmetterlo alla popolazione o di fare delle sarate e di conoscere cosa faceva in caso dovrebbe succedere qualcosa. Io immagino la casa di riposo, dove c'è anche la mia mamma di 97 anni, dovesse succedere qualcosa. Lo sa cosa deve fare? Dove deve scappare? Dove deve mettersi in sicurezza? Come non abbiamo visto da parte della provincia dei cartelli luminosi dove si dice è chiusa, è aperta, come quelli che hanno messo l'ANAS sulla strada, che erano delle piccole cose che forse anche il cittadino, il turista che veniva torna subito l'occhio. Dei cartelli all'inizio, strada chiusa, ma forse io penso che la provincia su queste cose poteva intervenire e poteva aiutare. Ora, io non so più e non so che decisioni adesso prenderanno e che cosa faranno, ma rendiamoci conto che da quando è partito questo progetto sono passati oramai più di 10 anni, sono passati 12 anni e quindi c'era del tempo forse anche di trovare i soldi perché se teniamo chiuso un'estate, un'inverno o due inverni Santa Caterina ci siamo chiesti che fatturato fa quell'indotto? Spendiamo probabilmente il tripo di quello che avremmo speso a fare questo bypass. Se questa era la soluzione, perché non è detto, però se c'erano questi tecnici, se c'è qualcuno che ha delle altre idee, doveva metterle sul tavolo e trovare altre iniziative. Noi si era partiti con quella, naturalmente non suggerita da Saruggia perché non ne capisce niente, ma bensì da persone che hanno messo lì 2 mila euro per fare un progetto, 2 milioni di euro per fare un progetto. Quindi voglio dire, il tempo c'è stato, non possiamo arrivare adesso perché arriva l'autunno, tra l'altro non abbiamo fatto niente o abbiamo fatto piccole cose sulla strada di emergenza, non abbiamo fatto l'elisoccorso a Santa Caterina che era già 12 anni fa in progetto. La strada del passo del Gavia sappiamo che fra qualche giorno o mese la chiudiamo e lì dipende dalle province. Già questi anni addietro mi arrabbiavo perché era stato deciso di chiudere al 30 settembre, poi magari si poteva arrivare fino al Gavia a fine ottobre se non a novembre. Quindi sono tutte cose che chi è alla guida e alla cosa deve metterle in cantiere perché bisogna uscire da questo impasse che è molto difficile. Penso che chi è alla guida avrà dei tentennamenti, però una decisione deve essere presa. Bene, io a questo punto vorrei mostrarvi un'intervista che ho fatto proprio nelle ultime ore all'assessore della regione Lombardia Massimo Sertori. Così Massimo Sertori ha raccontato la frana del Ruinon e ha sintetizzato le possibili soluzioni. Con noi Massimo Sertori, assessore regionale alla montagna, all'energia, agli enti locali eccetera eccetera eccetera. E soprattutto oggi in prima linea per questa vicenda che sta davvero mettendo in ginocchio una valle intera, la Val Furva, la frana del Ruinon si è mossa come non si era mai mossa in due decenni. Una grande preoccupazione, una situazione decisamente non facile. Sì, è una situazione complessa. Cominciamo col dire che la frana del Ruinon è la frana più grossa, il movimento frannoso più grosso di tutta la Lombardia, uno dei più importanti d'Europa. È una frana costituita da circa 30 milioni di metri cubi e che quest'anno sicuramente si è mossa molto di più rispetto a quanto non abbia fatto in tutti gli anni scorsi. Quindi è una frana che è monitorata da oltre 20 anni per la quale sono stati previsti una serie di interventi. Tant'è vero che proprio in estate la provincia ha dovuto interrompere un intervento della costruzione della galleria artificiale che era in atto. La provincia aveva investito quasi 4 milioni di euro per costruire questa galleria che avrebbe consentito comunque il fatto di scongiurare la chiusura della strada entro una certa fascia di pericolo di rischio perché poi questa frana è stata anche studiata e quindi le fasce di pericolo di rischio sono più di una e a seconda delle fasce poi ci sono gli interventi che bisogna fare a livello di piano protezione civile. Diciamo che quest'anno il movimento a seguito di nevicate importanti che ci sono state invernali, quindi nello scioglimento delle nevi, l'ingrossamento quindi dei fiumi, delle acque che sono penetrate a monte del corpo frana, il movimento franoso è stato molto maggiore rispetto agli anni scorsi. Pensiamo che ci sono alcuni punti che si sono mossi nel giro di due mesi di oltre 30 metri. Tant'è vero che recentemente dove abbiamo coinvolto anche un professore di Firenze che è uno dei massimi esperti in tutta Italia rispetto ai corpi franosi, lo stesso professore mi ha confidato che è difficile pensare tecnicamente che quella frana non sia ancora sceso nonostante il movimento importante che ha avuto. Quali sono le cause? Ma innanzitutto appunto lo scioglimento delle nevi che è stato imponente quest'anno e che quindi questa è una frana che continua a modificarsi. La frana che vediamo noi oggi e che monitoriamo oggi è diversa da quella di due mesi fa. Se pensiamo anche sui massi che ci sono sempre stati, ma evidentemente prima erano avvolti anche dal materiale, il materiale invece è sceso verso valle, ripeto in alcune zone anche di 30 metri. Ci sono alcune zone a nord della frana che sono diminuite di circa 8 metri di spessore e a valle sono aumentate di 4 metri, quindi i sassi sono rimasti lì ma il materiale è sceso lentamente verso valle. E quindi questo ha generato una forte instabilità dei sassi al punto che uno di questi appunto è crollato e è arrivato a invadere anche una parte di questo sasso perché scendendo poi si è spaccato in due pezzi andate a interessare la strada provinciale. Ecco su questo io voglio essere molto chiaro. Questi movimenti sono monitorati quotidianamente, ci sono da parte di ARPA regionale i monitoraggi e quindi noi sappiamo le accelerazioni che ci sono e in base a questi abbiamo deciso anche il fatto che la strada rimaneva chiusa ad esempio o totalmente in alcuni pochi giorni devo dire ma aperta magari dalle 7 alle 21 questa era l'ultima fase e più volte ho sentito da parte dei cittadini ma non solo, dei turisti che dicevano ma in fondo nessun sasso ha mai invaso la strada per cui siete troppo cautelativi bisogna lasciare aperta la strada. Evidentemente i fatti hanno dimostrato che non è così, noi ovviamente abbiamo l'obbligo di tutelare le cose ma soprattutto le persone e l'apertura della strada a 7.21 era stata fatta perché nonostante in una fascia cosiddetta 1A che è una fascia che prevede la chiusura della strada con un monitoraggio visivo, cosa che evidentemente di notte non era possibile, avevamo comunque il tempo necessario per eventualmente far defluire il traffico nel caso in cui dovesse esserci un collasso o comunque una discesa di un masso. Quindi sono tutte precauzioni che sono state prese ma sono state prese ovviamente con i dati analizzati da ARPA, con i geologi, con gli ingegneri, con i tecnici, con tutte le persone che hanno la competenza per poterci dire e segnalare le cose che devono essere fatte con un piano ovviamente della protezione civile. In questi due mesi, giusto dirlo, io voglio ringraziare i uomini della protezione civile perché sono lì sul posto, così come le persone che stanno facendo il monitoraggio visivo, comunque che facendo il monitoraggio visivo, adesso la strada è chiusa fin tanto che la strada è stata aperta, quantomeno dalle 7 alle 21, quindi veramente un impegno imponente. Così come la provincia, devo dire, inizialmente il geologo è stato messo a disposizione del comune ma poi due geologi sono stati messi a disposizione della provincia che evidentemente prima di aprire la strada dovevano valutare i bollettini meteo ma anche le accelerazioni date da ARPA, tutta una serie di altri dati e quindi poi decidere se la strada poteva essere aperta o meno. Quindi la situazione oggi è questa, noi ieri abbiamo fatto un sopralluogo, io ancora anche oggi sono andato sul Corpo Frana insieme agli ingegneri, abbiamo fatto ulteriori valutazioni, questa mattina abbiamo fatto una riunione tecnica dove c'era la provincia, il comune e la regione e la regione ha messo a disposizione due pronti interventi di 100 mila euro l'uno che verranno attuati dalla comunità montana, presente anche essa stamattina con il suo presidente e compagnoni e quindi questi interventi hanno come obiettivo quello di andare a far saltare, a brillare intanto il grosso masso che è restato a nord della Frana che è di circa 450 metri cubi ma eventualmente anche altri 3-4 sassi che vengono individuati dai geologi come instabili. Una volta quindi fatti brillare questi massi a quel punto la provincia si è preso l'onere l'incarico mettendo a disposizione da 1 a 2 milioni di euro di fare un tracciato paramassi, ovviamente bisogna aspettare le condizioni di sicurezza per poterlo fare e finalmente quindi avere la protezione sulla strada, almeno per quanto riguarda la fase 1A che è l'attuale fase. Un'altra valutazione che stiamo facendo, visto che la regione Lombardia già nei giorni scorsi aveva dato un incarico a Ersa per Parco di fare una progettazione, quindi abbiamo dato 650 mila euro per fare la progettazione per il drenaggio delle acque del confinale quindi per toglierle le acque che si infiltrano a monte del Corpo Fremla e che ne generano instabilità soprattutto in primavera ed estate. Ebbene però siccome il problema è cogente, siccome noi vogliamo metterci nelle condizioni e stiamo facendo tutto il possibile per mettersi nelle condizioni di riaprire la strada e quindi di salvare la stagione invernale per Santa Caterina e allora stiamo vedendo se con i pronti interventi possiamo già fare in anticipo alcuni lavori previsti soprattutto di intubamento provvisorio delle acque del confinale e anche questo potrebbe migliorare o comunque far decelerare la frana che si sta ancora muovendo perché proprio ieri i bollettini di ARPA ci hanno detto che si è ancora mossa di due metri. Quindi la situazione è questa. Io mi rendo perfettamente conto del disagio ed è anche il motivo per il quale ho fatto degli incontri pubblici a Santa Caterina e anche a Val Furva della popolazione, del disagio della popolazione e dei turisti ma ovviamente dobbiamo fare i conti con la natura, dobbiamo fare i conti con un corpo frana imponente, con un corpo frana che è in accelerazione, che ha avuto dei movimenti che prima non ci sono mai stati. E quindi stiamo mettendo insieme e in atto tutte le misure possibili e necessarie per garantire l'apertura della strada, ovviamente in sicurezza perché questo è un elemento che non è prescindibile e lo stiamo facendo con tutte le istituzioni impegnate, quindi regione, provincia, comune. Mi rendo conto del disagio, la regione ha messo a disposizione anche 200 mila euro per cercare di dare un contributo, un aiuto alle attività produttive. Mi fa molto piacere che le attività produttive insieme al comune, insieme a chi ha deciso di utilizzare questi soldi non dando magari 3, 4, 5 mila euro per ogni attività produttiva, ma lasciandoli concentrati per fare un piano di comunicazione proprio traguardando e guardando a quello che sono il futuro del turismo di Santa Caterina. Bene, quindi insomma regione c'è e ci sarà sempre per affrontare una situazione che ovviamente non è facile, quindi la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, evitiamo di dividerci in soluzioni che finché stiamo a raccontarla tra di noi possono essere, ognuno può dire la propria opinione, quando poi hai la responsabilità delle cose, ti devi confrontare e devi fare delle scelte, devi prendere delle decisioni, queste le puoi fare supportate da tecnici, da professionisti, da persone che le cose le conoscono, magari non solo così come ognuno di noi potrebbe trovare una soluzione che può sembrare di buon senso, ma poi in realtà non è fattibile. Assessore, quindi sta dicendo utopistico pensare ad un tunnel che attraversi questa montagna? Ma no, anche da questo punto di vista diciamo in questi vent'anni sono stati fatti una serie di studi, di approfondimenti, lo stesso piano di protezione civile è figlio di una serie di studi che ci dicono che entro un certo limite scatta questa misura o oltre a un certo limite scatta quest'altra misura. Negli studi c'è anche lo studio del famoso bypass che però ha un costo di 130 milioni di euro, quindi insomma io sono abituato a essere realista e pragmatico, quindi al di là del fatto che bisognerebbe eventualmente trovare 130 milioni di euro per fare questo intervento, ma è comunque un intervento che traguarda qualche anno. Allora adesso è ovvio che ci stiamo muovendo su due linee, una è sul breve termine e ripeto ribadisco, quello che tutti insieme stiamo cercando di fare è di consentire la riepertura della strada, ovviamente in sicurezza, in tempi brevi per preservare e salvare la stagione invernale. Questo è il primo elemento, è la prima cosa che stiamo cercando di fare tutti insieme. Poi ovviamente ci sono degli interventi a medio-lungo termine, fra questi l'ho detto prima, il drenaggio del confinale è un intervento che indubbiamente va a migliorare in modo importante la stabilità di tutto il versante. La galleria artificiale, che la provincia ha dovuto sospendere i lavori perché non c'erano più i termini di sicurezza per i lavoratori, ma è indubbiamente un intervento a medio termine che deve essere fatto. Se la galleria artificiale dovesse non essere sufficiente nella lunghezza, si può pensare di ulteriormente finanziare e di allungare questa galleria artificiale, voglio ricordare che se questa galleria fosse stata ultimata, ripeto, a lavori in corso abbiamo dovuto sospendere perché le accelerazioni del corpo frana erano tali per cui non garantivano più la sicurezza dei lavoratori, la fase 1A, che è quella attuale, avrebbe comunque consentito la strada aperta. Quindi ci sono tutta una serie di interventi che sono in parte già in fase di attuazione e in parte in fase di progettazione di attuazione e lo voglio dire, peraltro, il rinone è entrato nell'ordinanza della protezione civile e proprio nei giorni scorsi i dirigenti di Regione Lombardia hanno fatto anche i sopralluoghi con la protezione civile nazionale per inserire lo stesso rinone e quindi questo serve anche per accelerare le procedure. Assessore, ha parlato della galleria i cui lavori sono partiti da tempo, questi lavori non potrebbero avere in qualche modo accelerato questo movimento franoso? La popolazione un po' teme questo? Direi di no, direi di no, perlomeno tecnicamente le persone con le quali mi sono confrontato hanno assolutamente escluso questa possibilità. I movimenti imponenti e importanti, che peraltro sono partiti dall'alto, che abbiamo visto, evidenziato quest'anno, sono dovuti, perlomeno questo è quello che mi dicono i tecnici, io mi fido di quanto mi viene relazionato principalmente allo scioglimento delle nevi, neanche dalle piogge e dal meteo, che comunque incide, ma soprattutto per quanto riguarda i scioglimenti delle nevi, evidentemente c'è stata un'annata assolutamente straordinaria per quanto riguarda il manto nevoso, c'è stato un innalzamento dello zero termico molto presto e quindi questo, il combinato disposto di molta neve e lo zero termico in alta quota, ha liberato, diciamo così, delle acque in modo importante, imponente, che si sono infiltrate nella zona nord del Corpo Frana e che hanno di fatto creato questa massa scivolosa e bagnata che evidentemente poi ha generato gli spostamenti di cui stiamo parlando. Per quanto riguarda l'economia di questa vallata, ma in particolare di Santa Caterina a Val Furva, è giusto ricordare che è una valle che vive di turismo, la stagione estiva è stata, per così dire, persa, ora gli operatori temono che possa accadere anche durante la stagione invernale e questo sarebbe davvero drammatico, anche perché in questo momento sono raggiungibili solo dal Passo del Gavia, ma alle prime nevicate anche questo verrà chiuso. Che cosa possiamo dire per rassicurare in qualche modo gli abitanti e gli operatori della Val Furva? L'ho detto prima, ci rendiamo conto di questa situazione ed è il motivo per il quale tutti insieme stiamo veramente concentrando il massimo delle forze per far sì che venga ripristinata la viabilità prima della stagione invernale, proprio per scongiurare anche una debacla su quella che è la stagione invernale e che sappiamo benissimo essere importantissima per Santa Caterina. Ripeto, al di là e al di fuori dell'impegno mio personale, ma dell'impegno devo dire della provincia, del comune e delle risorse, perché anche le risorse sono ingenti, le risorse che sono state messe a disposizione da parte di tutti, questo è il massimo che possiamo fare. Io credo, ho sentito anche in questi giorni alcune polemiche, le polemiche, le critiche va bene, io le accetto, ci mancherebbe altro, ma certamente non risolvono il problema, perché io posso garantire che le istituzioni, i rappresentanti istituzionali sono tutti impegnati al massimo appunto per ripristinare la viabilità e mettere nelle condizioni gli abitanti di Santa Caterina di lavorare al meglio e di avere una stagione invernale tranquilla. Questo è l'impegno massimo che ci stiamo dando tutti, sinceramente io credo che benissimo le critiche, difficile improvvisarsi tutti i tecnici e tutti, perché ripeto, la logica e il buonsenso ti induce a dire determinate cose che poi si scontrano con la realtà e con una realtà che i professionisti evidentemente se non fosse altro anche per esperienza vissuta conoscono evidentemente meglio di noi, che dobbiamo decidere ma sulla base ovviamente di elementi tecnici che ci vengono forniti. Credo che stiamo valutando le cose con tutti i massimi esponenti italiani rispetto alle frane e la dinamica delle frane, io credo che sia importante essere tutti uniti compatti, non dividersi magari in polemiche che non servono e sicuramente non aiutano anche chi è chi responsabilmente poi deve prendere delle scelte, anzi aggiungo, e questo ci tengo a dirlo. Siccome sappiamo anche come funzionano le cose, io sono un amministratore, sono un politico, ma come sapete poi le autorizzazioni vengono rilasciate da tecnici, da funzionari, da dirigenti che magari non hanno un rapporto diretto con i cittadini ma che portano con loro la responsabilità delle autorizzazioni che magari rilasciano. Per cui in clima di polemica o di contrasto da questo punto di vista non fa altro che creare una situazione più negativa che positiva. Per cui io lo dico veramente è un auspicio, è un appello che faccio anche ai cittadini che capisco essere in una situazione di disagio. Io ho le spelle larghe, se la vogliono prendere con me, con l'assessore, dobbiamo confrontarci, devo fare altri incontri pubblici, sono disposto a farli, non ho paura a farli e mettiamo sul tavolo tutte le cose nel modo più trasparente possibile, che è quello che sto cercando di fare anche con queste interviste e con altre interviste. Però attenzione, parliamoci, ma non alziamo il tiro sulle polemiche perché questo crea un clima che è ancora più difficile poi da gestire in una situazione che già di suo è molto difficile. Di là delle polemiche è comunque incomprensibile la preoccupazione degli abitanti, hanno un problema legato alla sicurezza ma anche proprio alla quotidianità, tra qualche settimana inizierà la scuola e quindi anche questo si rivelerà un problema da un punto di vista pratico, per loro sarà difficile. Allora io quello che mi sento di garantire ai cittadini di Valforva, tutti di Santa Caterina e anche ai turisti, che c'è assoluto massimo impegno da parte mia, da parte della Regione Lombardia, da parte del mio collega Foroni, Pietro Foroni, che è l'assessore al territorio, il Presidente Fontana è avvisato e al corrente di questa situazione, la provincia devo dire l'ha dimostrato anche questa mattina, senza tirarsi indietro e mettendo a disposizione un milione di euro così d'amblè per questo lavoro, così come anche il Comune, tutti si stanno adoperando per cercare di risolvere questo che è un problema molto importante, che conosciamo e abbiamo bisogno anche del sostegno della popolazione nonostante mi rendo conto del disagio. Come abbiamo sentito dall'assessore regionale Massimo Sertori, il dissesto più imponente e potenzialmente pericoloso della Regione Lombardia. Un concetto quindi su cui tutti siamo d'accordo, siete d'accordo anche sulle soluzioni che ha ipotizzato? Allora, cominciamo col dire che alcune delle cose che ha detto l'assessore le condivido, alcune no. Condivido il fatto che c'è la preoccupazione che una valata, e io continuo a dire che Santa Caterina è il motore trainante dell'economia della Val Furba, perché che piace a noi così, e allora in questo caso bisogna muoversi diversamente, perché se noi avessimo su quattro case, quattro baite, non ci si preoccuperebbe sicuramente. Mi fa piacere però alcune cose che ha detto Sertori, che vanno tirate via le acque a monte, ma è vent'anni che lo diciamo, anche la provincia, anche la regione, poteva o doveva muoversi? Secondo me bisogna muoversi prima, senza stare qui a incolpare l'uno o l'altro. La seconda cosa, sono stati iniziati i lavori della galleria che dovrebbe risolvere il problema del transito della strada, ma allora io qui devo dire che siccome mi piace dire quello che penso e non devo difendere niente, perché io non sono libro pago di nessuno, e l'hanno detto anche i professionisti di Val Furba, geometri e architetti, che da quando è stato fatto lo scavo ai piedi della frana, un mega scavo per realizzare la galleria, hanno cominciato i primi movimenti. Si può ben dare la colpa all'acqua, alla neve e a chi che sia, però togliendo un piede a una frana così pericolosa, anche i bambini dell'asilo lo sanno e lo saprebbero che si va a creare un movimento che piace o no. Il risultato è stato questo. Allora voglio dire, ma è il caso di continuare a proseguire quel lavoro lì, che secondo me dovesse veramente venire giù la frana in terra una volta realizzata la galleria, sarebbe la tomba magari di chissà quanti automobilisti che passerebbero lì sotto. Qui bisogna scendere e prendere le decisioni. Io nel mio piccolo, dico solo, cominciamo a tirar giù tutti i sassi, cominciamo a fare queste reti di protezione, che è il primo passo per garantire l'apertura della strada. Portiamo su quattro ragni, quattro scavatori a confinale, a pre-duris e cominciamo a incanalare le acque e che vadano tutte dove devono andare. Sono lavori che si possono fare domani mattina e sicuramente recuperiamo tempo per la stagione invernale. Poi la storia che non troviamo 100, 120, 180 milioni di euro mi fa ridere perché noi abbiamo l'arma dei comuni confinanti, perché questi soldi, l'ha detto Sarugia, devono ritornare dove erano stati stanziati inizialmente, perché io ho dato anima e corpo insieme al sindaco Tradatti quando sono nati i soldi dei comuni confinanti, con mega riunioni a Vicenza, a Belluno, a Trento, a Bolzano, con Don Valle. Allora, i soldi si trovano, poi ci sono le emergenze europee, ci sono i fondi europei, perché qui l'emergenza va risolta e la risolveremo sicuramente con una galleria, con un tunnel, perché se no strada di emergenza è impensabile, perché il versante dove abbiamo creato noi la strada di emergenza è molto pericolosa perché ci sono tante sorgentine anche lì, l'inverno viene fuori gaccia da tutte le parti, poi si sale e si scende. La situazione è questa, bisogna creare subito quello che ho detto e dopo eventualmente recuperare i soldi e fare il tunnel, che piace o no è così. Questa soluzione è anche la soluzione che hanno palesato coloro che credono che possa verificarsi quanto è accaduto nell'87, quindi una Valpola bis non era sicuramente prevista, una frana di quelle dimensioni, altrimenti la popolazione sarebbe stata evacuata e non vi sarebbero stati 35 morti. È uno scenario ovviamente apocalittico per la Valle del Bormiese e la Val Furva, però certo non si può non tenere conto della storia. Sicuramente un po' di attenzione bisogna metterla, perché non si può giocare con la vita delle persone, quello io sono il primo a dirlo, io dico che sono 35 anni che frequento la frana di Ruinon, tutti gli anni vado su, in cima, a metà, attraverso da Prado Rigia con Finale Basso, pertanto i scenari che si sono presentati in questi ultimi anni li so a memoria, non ho problemi. Addirittura una mia amica, figlia di un nostro generale, guarda di finanza, aveva fatto la tesi 20 anni fa per diventare geologo, aveva fatto la tesi sulla frana di Ruinon e dovevo accompagnarla io, solo che ho avuto dei problemi, dovevo andare via a casa mia, avevo i miei che non avevano dei problemi, e avevo suggerito alla ragazza di prendere il collo a Giuseppe, che è il ragazzo che segue un po' tutti gli eventi calamitosi della Val Furva, che è anche bravo. Pertanto, già a quei tempi, anche a livello di studio, di università, si seguiva la frana di Ruinon. Qui si sono persi decenni e decenni di anni. E una regione, io continuo a dirlo, con le potenzialità che ha la Lombardia, il terzo motore economico, siamo la prima economia italiana, siamo in prima e da per tutto, è ridicolo che si venga a dire che non si trovano 100 o 120 o 130 milioni per fare una galleria. Cosa facciamo? Prendiamo l'economia di Santa Caterina e i centinaia di milioni di alberghi, di condomini, di appartamenti, di attività che ci sono a Santa Caterina. Cosa facciamo? Chiudiamo, facciamo sparire, perché ci sono già attività che sono lì abbastanza messe male, perché negli anni passati il turismo non è che ha tirato proprio come doveva tirare, specialmente le stagioni invernali. Voglio dire, qui è il momento di tirar fuori tutto quello che c'era a tirar fuori. Secondo lei ci sono i tempi tecnici per deviare quindi il corso dell'acqua e per quindi convogliare le acque che in qualche modo vanno ad aprirlo ulteriormente la montagna e creare delle paratoie, delle protezioni paramassi prima dell'inverno? Allora, io conosco delle squadre in Trentino e in Veneto che fanno questi mestieri qua, hanno girato mezza Europa per mettere in sicurezza i versanti. Se decidiamo di farlo subito, poi tempo permettendo, perché se nevica in alto, non è che si può andare su quei scavatori, con i ragni a deviare le acque. Però cominciamo subito. L'operazione principale, prima dell'acqua ancora, è far venire giù tutti i sassi, quelli pericolosi, perché io ieri ero su di lì, ne ho visti tre, quattro che sono lì, che se vai lì con un leverino li fai venire giù. Allora, non bisogna più perdere tempo, bisogna passare ai fatti. E sicuramente se c'è la possibilità che madre natura, magari fino a metà novembre o fine ottobre, ci dà la possibilità di salire con finale a basso e per l'uris a fare queste deviazioni, questi canali per tirare via almeno il grosso delle acque, questo possiamo farlo, ma quando vogliamo non c'è nessun problema, perché qui continuiamo a creare problemi che si possono risolvere domani mattina. Ecco, e ancora le chiedo che cosa pensa della strada, diciamo, che viene utilizzata in questo momento, immagino quella che avete utilizzato anche voi oggi per raggiungermi qui a Livigno, perché abitate a Santa Caterina, quindi della strada parallela al Frodolfo. È una strada che potrà rispondere alle esigenze degli abitanti di Santa Caterina in attesa che venga appunto rimessa in sicurezza la provinciale? Allora, Gloria, facciamo un chiarimento, perché sennò dicono che raccontiamo bugie. Noi non abitiamo a Santa Caterina, abitiamo a Sant'Antonio e non facciamo la strada d'emergenza. Però io la strada d'emergenza l'ho fatta anche l'altro ieri, perché io ho una macchina 4x4. Quella è un'alternativa che non può continuare in eterno, perché è pericolosa. Ci sono pochi scambi. Ci sono dei tratti dove anche la manutenzione si fa molto desiderare. Abbiamo il consorzio forestale che gestisce la viabilità della Val Furva, Silvo Agro Pastorale. Vogliamo prendere 3-4 operai e metterli lì e sistemare ogni volta che si creano dei buchi, ogni volta che si riempiono le canaline? No, ho visto su due operai per misericordia. È impensabile che la gente di Santa Caterina possa utilizzare quella strada lì. Io l'avevo detto qualche mese fa, quando si paventava e sono iniziati i primi scavi della famosa galleria artificiale. Ma se noi prendiamo 5 milioni di euro e adeguiamo quella strada di emergenza, asfaltandola, mettendola in sicurezza, col guardarail, facendo le aree di poter passare due macchine, in due mesi, magari andando in quelle zone un po' più pericolose e sistemare, non era meglio. Quest'ora avevamo la strada, potevano passare biciclette, moto, macchine, non 4x4, e era risolto il grosso del problema. Invece siamo andati a intraprendere un'impresa che secondo me non verrà portata a termine perché io voglio vedere chi è che va lì sotto a lavorare con la spada di Damocle lì sopra che se per disgrazia lo avesse partito veramente, che io mi auguro che non partirà mai. Però la soluzione c'era, però si è preferito andare a creare questo intervento che io non l'ho mai condiviso, perché preferivo avere una strada di là, asfaltata, messa in sicurezza, dove si poteva andare avanti e indietro tranquilli, senza navette, senza costi, perché anche le navette qualcuno le deve pagare. Abbiamo preferito andare a trovare soluzioni, l'ennesima soluzione all'italiana che alla fine non contenta nessuno e anzi crea scompiglio e come dico, non voglio, vorrei essere nei panni della gente di Santa Caterina. Io per dire, faccio un esempio, io e mia figlia sposato in un albergatore di Santa Caterina, lei lavora a Bormio e va avanti ogni due o tre giorni, va su a trovare il marito, viene giù lui, perché con la sala di emergenza non è che uno può andare su ogni due ore, ogni cinque ore. Cioè, ci sono situazioni anche abbastanza pesanti, perché voglio dire, la gente oggi ha diritto di vivere, ha diritto di avere quel poco che paghiamo le tasse, perché giustamente si pagano le tasse e in Lombardia mi sembra che le paghiamo anche molto profumatamente e anche siamo sempre i primi a pagarle. Allora voglio dire, qui bisogna scendere dallo sgabello e partire subito a trovare... Le soluzioni ci sono, non continuare a rimandare, perché qui è ora di finirla, perché ognuno deve prendere le sue responsabilità. Sono d'accordo con il massimo ossertore che bisogna essere uniti, però questi enti, presidenti e non presidenti, devono finirla di occupare le poltrone solo per comodità. Quando vanno prese delle decisioni bisogna prenderle, se non si è capace di prenderle si va a casa. Io la penso così. I momenti difficili insegnano che in un momento difficile ognuno deve prendere la sua responsabilità. Saruggia, prego. Allora, io sono nato a Bormio all'ospedale, però sono di Volfurba. Fortunatamente sono ritornato dopo tanti anni in Vitao Saronno per lavoro, per studi e posso dire che amo la Volfurba. Quindi farò di tutto per poter dare il mio contributo per risollevare questo problema. Mi auguro che la Valle serva solo per fare gli eventi sportivi o raccolta voti per i partiti, per mettere vincoli. Vedi il piano del parco che in un anno doveva essere fatto. io ho fatto il presidente del comitato lombardo del parco per cinque anni. In quegli anni siamo riusciti a presentare un documento, un piano del parco a Roma. Non è mai ritornato niente. Da quando si è diviso in tre qualcun altro regione Lombardia l'ha presentato dovevano farlo in poco tempo a oggi non è fatto. Per non parlare del piano d'area. Piano d'area anche lì fatto da regione Lombardia che io ho qui tutta una documentazione che in quegli anni avevamo contestato il modo, la cosa perché ce lo siamo trovato anche per stilare il piano del governo nel territorio dove c'erano dei vincoli quindi la gente si è trovata magari dei problemi che prima non c'erano e anche qui bisognava fare una cabina di regia non si è fatto più niente. Ora bisogna fare qualche riflessione. Io penso che è il sistema è il sistema italiano che non funziona. Non funziona proprio non funziona. Questo è un discorso. Non è colpa né di uno né dell'altro né dell'altro. Ho sentito l'amico Sertori che giustamente dice io sono un politico faccio il possibile ma alla fine c'è qualcun altro che deve decidere e firmare. E quindi quando si è in queste posizioni non si decide più niente. E chi ne fa le spese? chi ha il problema? Allora io ho fatto un'altra riflessione e ne arrivo l'autunno come affrontiamo il problema dei cittadini di Santa Caterina? I bimbi i ragazzi che devono affrontare l'anno scolastico gli operatori che devono programmare la stagione invernale e tutto l'indotto che genera la località è altro. E se continua a brutto tempo di questo passo l'ho già detto prima altro che spendere i soldi del progetto per non pensare alla brutta pubblicità che si ripercuote sulla valle perché se volevamo fare una pubblicità far conoscere il nome l'abbiamo fatto e mi dispiace l'abbiamo fatto in un brutto modo. Abbiamo bisogno di decisioni immediate e forti e chi è in cabina di regia gli chiedo di farsi coraggio e di decidere nel bene o nel male. Noi ci permettiamo anche di dare degli input l'ho detto prima prima cosa lavorare sui sassi pericolanti come più volte sollecitato in questi anni di minoranza. Mettere in sicurezza la strada non vorrei ripetermi a quello che ha detto Carmelino però alternativa tenendo presente che in inverno in fondo passa la pista Deborah quindi problema togliere subito le acque mettere in sicurezza la strada del passo Gavia e tenerla aperta il più possibile informare la popolazione sono cose che forse ho già detto subito l'elissoccorso eseguire il progetto e se non va bene questo progetto che qualcuno ha delle idee o dei fluidi magici che ci dica cosa si può fare fare il tunnel Santa Caterina Val Furva a Ponte di Legno magari con con un trenino turistico che potrebbe essere un'occasione anche per il collegamento sciistico vedi nostra richiesta allora ero sindaco 16 giugno 2010 PTRA all'allora presidente della provincia Massimo Sertori in casi non provocatori ma estremi ma io dico che penso dovremmo andare in quella linea e l'avevo già chiesto chiedere zona franca chiedere zona franca perché a questo punto abbiamo proprio bisogno e chiedere fare un referendum chiedere l'unione Trentino Bolzano Saruggia molto chiaro provocazione o possibile soluzione quel che è certo è che se gli abitanti gli amministratori della Val Furva maggioranza e opposizione sapranno mostrarsi finalmente uniti forse riuscirete ad ottenere qualcosa in più prendere una decisione assumersi le proprie responsabilità ma sicuramente mostrarsi uniti e chiedere forse anche a questo punto anche il sostegno degli altri amministratori di questa parte della Valtellina che credo non vi verrà negato io spero che quanto sia quanto è stato raccontato sia stato utile ai nostri telespettatori rinnovo l'invito comunque al sindaco Cacciotto al vice sindaco Bellotti ad intervenire a venire ad aggiornare anche attraverso le nostre telecamere la popolazione della Val Furva e il resto della Valtellina perché credo che comunque alla base di tutto vi sia una corretta informazione e comunicazione posso solo aggiungere una cosa brevissima io mi collego a quello che ha detto l'amico Gianfranco noi siamo qui ad Arnamano io sono il primo a mettermi a disposizione io non ho problemi io ci tengo la mia valle anche se non sono nato qua però sono forse più furiccio di qualcuno che si vanta di essere furiccio però bisogna essere anche un po' più umili anche dall'altra parte perché noi abbiamo messo a disposizione la nostra opera il nostro mandato già da due anni fa pertanto se vogliono collaborare se vogliono una mano noi siamo qui disponibili perché sappiamo benissimo che le polemiche non portano soluzioni però bisogna anche collaborare ogni tanto bisogna scendere anche dallo scalino grazie Carmelino Punte grazie mille io ringrazio molto volentieri in modo particolare te Gloria te le Monteneve che ci dà sempre la possibilità di portare a conoscenza dei nostri concittadini tutti i problemi che abbiamo grazie mille e grazie Gianfranco Saruggia io ringrazio lei di questa cosa come ho detto all'inizio non l'avevamo fatto prima anche se sollecitati proprio per non disturbare sia chi lavorava sul pezzo che la popolazione dei turisti comunque grazie ancora mi auguro che vada tutto a buon fine e che penso che si possa fare un bel Natale tranquilli tutti assieme grazie per averci seguito Grandangolo vi dà appuntamento a venerdì prossimo buona serata grazie a tutti